Il Consiglio Comunale di Forio ha approvato il regolamento per il suolo pubblico. Quali sono i punti salienti, consigliere Di Maio? Sì, in realtà questo regolamento ha aggiornato in maniera importante quello che era il precedente regolamento del 2010 adeguandosi al DPR 31 del 2017 che è entrato in vigore il 6 aprile. Quindi è una norma importantissima che ha creato sostanzialmente, ha dato una definizione a tutta una serie di strutture che possono essere collocate su suolo pubblico e quindi è una norma che è stata recepita da questo regolamento che è riuscito in questo modo a essere meno rigido come si diceva anche in Consiglio Comunale rispetto a quello precedente. In effetti si temeva che accadessero cose che poi potessero lasciare la stura a quanto è accaduto per esempio a Citara. Infatti c'erano gli esercenti di via Marina che temevano una soluzione del genere. Io penso che è compito dell'amministrazione salvaguardare quello che è il tessuto sociale ed economico del territorio cercando soluzioni che siano comunque compatibili col territorio stesso quindi con la tutela di quello che è il paesaggio del territorio stesso e credo che comunque questo regolamento tuteli sì i commercianti ma tuteli anche il territorio in quanto c'è un termine entro il quale comunque i commercianti devono presentare una nuova istanza che deve poi ottenere il vaglio comunque della sovrintendenza. Quindi è chiaro che questo è un punto nodale importante, innovativo dove si dà la possibilità per un lasso temporale chiaramente ben definito di poter far permanere alcune strutture perché comunque nei decenni sono state realizzate anche alcune contralegge, ma è la cosa fondamentale che comunque anche questi dovranno adeguarsi o comunque adeguare queste strutture alle norme regolamentari quindi creando da questo punto di vista quell'elemento di tutela del paesaggio che è fondamentale per il nostro territorio. L'opposizione contesta il fatto del ricorso a questa sorta di proroga di ulteriori due anni? No, questa è una norma transitore come abbiamo avuto modo di vedere anche da quello che è stato l'esame fatto dai consulenti esterni presenti al Consiglio Comunale è una norma transitore che è possibile soprattutto per dare la possibilità a chi nel corso dei decenni in realtà non è stato evidentemente sottoposto ai controlli necessari di potersi aggiornare senza avere una perdita economica rilevante e questo potreva indirettamente addirittura produrre un danno irariale per il Comune nel momento in cui si andava ad operare il nuovo regolamento negando in qualche modo a questi commercianti di poter continuare a svolgere l'attività. Credo che invece al di là di quello che dice l'opposizione dove per la verità io non ho visto che c'erano delle motivazioni forti rispetto a quello che era il Dio o comunque motivazioni di merito rispetto a alcune norme regolamentari questo invece dicevo sia un momento fondamentale dal quale si possa appunto creare nuovo sviluppo per tutto il territorio.